Dopo la tempesta vaia nel territorio della Gordino, dalla cima della Marmolada fino alla valle di San Lucano, tra le vette del Civetta e del Pelmo e lo specchio del lago di Alleghe, si sono improvvisamente aperti alla vista nuovi scorci, vallate e sentieri nascosti. Sette amministrazioni comunali del territorio, Roccapietore e Alleghe in testa, hanno deciso quindi di lanciare la campagna Ricaricati in Natura, per condividere la lezione appresa dagli eventi naturali e dunque offrire un soggiorno gratuito a un piccolo gruppo di candidati disposti a vivere per 5 giorni senza cellulare né computer e senza comodità, partecipando anche ad alcune attività di ricostruzione del territorio. Capofila dell'operazione Dolomites Madness. L'obiettivo è quello di avviare una forte attività di comunicazione verso testate, media, canali nazionali e internazionali, che sono già stati in parte avviati questi rapporti, per attrarre persone che non conoscono questo territorio ma che possono conoscerlo attraverso questo concorso e quindi appunto a un piccolo gruppo che immaginiamo di circa 10 persone daremo l'opportunità di vincere questo viaggio per venire qui a settembre, conoscere altre persone ma soprattutto conoscere il territorio. Una delle cose particolari di questo Ricaricati in natura, che è una pagina web dedicata e verrà lanciato a livello internazionale e che noi a queste persone daremo l'opportunità di vivere esattamente il tipo di offerta che noi stiamo costruendo per questo territorio, quindi un'offerta per ricaricarsi in natura in cui ci sarà sport, ci saranno le albe in quota, ci saranno attività legate all'enogastronomia ma anche la conoscenza dell'artigianato tipico e del territorio, quello autentico e oltre a questo queste persone avranno l'opportunità anche di fare piccole attività di volontariato per supportare la ricostruzione del territorio, quindi sarà un viaggio in qualche modo trasformativo, sarà un viaggio importante per noi, per il territorio ma anche e soprattutto per le persone che parteciperanno.